andiamo a mettere l'accuso per avere un microfono adesso ti com'è già picciato adesso sei destrutto e sento come andiamo a mettere la casa a po' sono bello pensare che andremo bella ste padroni ciò ma quante persone vivono nella sua casa? vai adesso sento come hai già picciato adesso sei destrutto e sento che... continuo torre annunziata palazzine verdi 2010 adesso sei già picciato adesso sei destrutto e sento che vado a venire a mettere la casa a po' lo bello pensare la casa è lo bello ste padroni ciò ma quante persone vivono a casa sua? quante persone vivono? io e mia figlia siamo 7-8 nocci tutti i bambini stanno a scuola i bambini stanno a scuola i bambini stanno a scuola i bambini quando fanno? perché non voglio fare i bambini e i bambini mi fanno crescita io napoli 2010 ma che è successo? è successo che l'acqua di napoli è un po' nera abbiamo la bandiera nera e abbiamo creato una piscina nei quartieri spagnoli così i bambini possono giocare e fare lo punch come funziona? funziona che la sera la lembio la mattina la sva canto a rallenti la sera la lembio la mattina la sva canto va a volley oh my god troppo calma insomma